Le società di gestione del risparmio o SGR giocano un ruolo cruciale in ambito finanziario, ma che cosa fanno esattamente? Le SGR gestiscono collettivamente il risparmio raccolto tramite fondi comuni di investimento, investendolo sui mercati finanziari in una pluralità di titoli, cercando di ottimizzare rischi, costi e rendimenti. Si tratta di società con personalità giuridica e capitali distinti da quelli dei fondi comuni di investimento e sono iscritte in un apposito albo. Oltre ai fondi comuni di investimento, le SGR possono gestire anche fondi pensioni, offrire consulenza sugli investimenti. Operano all'interno di un panorama normativo ben definito al fine di assicurare diligenza, trasparenza e correttezza nell'interesse degli investitori. Etica SGR si distingue in questo panorama gestendo esclusivamente fondi comuni di investimento etici e sostenibili, attenti cioè alle conseguenze sociali e ambientali delle azioni intraprese dalle società e dagli stati in cui i fondi investono. Scopri di più su come le tue scelte di investimento possono fare la differenza.